Benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale Passano i giorni, le elezioni si avvicinano ma il quadro politico regionale resta confuso, anzi aumenta il numero dei probabili aspiranti candidati. Il governatore è rimasto pressoché isolato, cerca di guadagnare tempo e sollecita un rinvio delle votazioni. Sentiamo Giovanni Minicozzi. Prima delle festività natalizie sembrava tutto in via di soluzione e invece lo scenario politico regionale in vista delle elezioni è ancora confuso in entrambi gli schieramenti politici di centrodestra e centrosinistra. Da una parte resta in primo piano la candidatura del presidente del Tribunale di Sernia, Enzo Di Giacomo, proposta dai comitati civici e sostenuta da alcuni partiti del centrodestra. Ma l'eurodeputato Aldo Patriciello non ha ancora ufficializzato la sua adesione, anzi nel corso di una telefonata a quanto animata con chi vi parla, disse chiaramente che lui aveva proposto Mario Pietracupa, il quale evidentemente resta un probabile aspirante alla presidenza della regione. Così come restano in campo Michele Iorio più determinato che mai, Michele Marone e Aida Romagnolo. Sull'altro versante politico, dopo il rinvio sine die del vertice romano con Guerini, permane la spaccatura tra Olivo 2.0 e il PD di Fratture e Fanelli. Il passo indietro, annunciato da Roberto Ruta, potrebbe servire a riunire tutto il centrosinistra su un terzo candidato alla presidenza della regione. Con tale ipotesi, il designato sarebbe il rettore Gian Maria Palmieri, ma non sono da escludere i deputati Danilo Leva e Laura Venitelli. Solo ipotesi, appunto, poiché Paolo Frattura non molla e in queste ore, secondo i ben informati, sarebbe impegnato a sollecitare un improbabile posticipo delle regionali a valle delle elezioni politiche. Non si comprendono le motivazioni di tale impegno, ma appare chiaro che Paolo Frattura cerca di guadagnare tempo nel tentativo di convincere i suoi ex alleati e magari lo stesso Aldo Patriciello a sostenere la sua ricandidatura. Di certo, però, il governatore non recupererà il rapporto con Olivo 2.0 e con altri ex amici che da tempo hanno chiesto discontinuità, ovvero unità sì, ma senza Paolo Frattura. Infine, tutto tace nel Movimento 5 Stelle che aspetta l'input dai vertici per scegliere online candidato presidente e aspiranti parlamentari. Peraltro, le due figure non sono incompatibili tra loro e quindi non è escluso che i candidati al vertice della regione possano correre anche alla Camera o al Senato per poi scegliere la destinazione definitiva. In nome dell'unità del centro-sinistra sono disposto a non ricandidarmi a nulla, né alla Camera, né al Senato, né in regione. A dirlo è stato il senatore Roberto Ruta nel corso della conferenza stampa di fine mandato salta il vertice romano con Guerini e Frattura. Sentiamo Pasquale Di Bello. I botti di fine anno, anzi il botto poiché è uno solo, il senatore Roberto Ruta lo fa con qualche giorno di anticipo rispetto alla scadenza naturale del 31 dicembre. Il petardo lo spara alla fine di una tranquilla conferenza stampa nel corso della quale il senatore del Partito Democratico ha illustrato i risultati del proprio mandato. Dopo aver sciorinato provvedimenti, atti, numeri e persino la statistica che lo vede protagonista con 51 voti ribelli espressi contro il suo stesso partito, Ruta dà fuoco alle polveri e accende la miccia. Domanda risponde, il tema è quello di una sua eventuale ricandidatura. La risposta, in nome dell'unità del centro-sinistra, sono disposto a non ricandidarmi a nulla, né Camera, né Senato, né Regione. La risposta, Ruta la offre ai giornalisti, ma il vero destinatario è Paolo Di Laura. Frattura, l'atteso vertice romano con Lorenzo Guerrini, Laura Venitelli e l'attuale governatore del Molise, vertice già fissato per domani, è saltato. Ignoti i motivi, anche se presumibili. Dal tavolo romano, Ruta, sempre in nome dell'unità, ha chiesto un passo indietro al presidente della regione, Frattura, che dopo gli abbandoni che si susseguono al ritmo quotidiano, fa concorrenza a Spelacchio, il rachitico albero di Natale posizionato in piazza Venezia a Roma, a fare macchina indietro, però non ci pensa minimamente. In attesa di conoscere le decisioni romane, Ruta ha fatto intanto conoscere i risultati del quinquennio trascorso a Roma. Il senatore è stato tra i più presenti in aula, a lui si devono come primo firmatario 534 emendamenti, 10 disegni di legge, 22 interrogazioni, 3 emozioni, 1 risoluzione e 44 ordini del giorno. Sono diversi i fiori all'occhiello di cui si può freggiare l'istituzione del Parco del Matese, ottenuto anche grazie all'intervento del senatore Di Giacomo, la proroga della cassa integrazione in deroga per 300 lavoratori della ex GAM, l'accesso del Molise alle ZES, zone economiche speciali, l'implementazione del trasporto pubblico regionale e il mantenimento della fermata del Frecciarossa a Termoli, il sostegno finanziario in favore delle piccole sale cinematografiche. Seguono poi gli obiettivi conseguiti nel campo dell'agricoltura, come quelli sulla tracciabilità dei prodotti, le nuove norme in materia di reati agroalimentari, l'attivazione del fondo di 160 milioni di euro per il piano giovani in agricoltura. Il senatore ha poi ricordato, tra le altre cose, la battaglia per il mantenimento della Corte d'Appello in Molise. Insomma, un bilancio lusinghiero che ruta, sgrana con un sorriso sornione, che a fine conferenza si fa affilato come una tagliola. La legislatura è finita e fa capire, anche se non lo dice, pure la carriera politica di Paolo Di Laura Frattura. Non mi candido a nulla, dice, in nome dell'unità, ma vale anche il contrario. Davanti alla evidente frammentazione del centro-sinistra, Ruta è destinato a rimanere un protagonista della scena politica, nazionale e regionale. Oggi ricorre l'anniversario dell'istituzione della regione Molise, l'autonomia però a 54 anni da quella data è sempre meno solida. Sentiamo Giovanni Di Tota. 54 anni fa, con una disposizione transitoria che consentiva di derogare ai limiti imposti dalla Costituzione, che imponeva un minimo di un milione di abitanti, la provincia di Campobasso, che allora comprendeva anche Isernia e ne contava poco più di 300.000, si staccò dall'Abruzzo dando vita alla regione autonoma del Molise. Era il 27 dicembre 1963 e in quel giorno nacque la ventesima regione italiana con Campobasso, capoluogo. Per qualche anno sui libri di geografia continuarono ad essere Abruzzi e Molise e nel 1970 il territorio di Isernia venne scorporato da quello di Campobasso dando vita alla seconda provincia e alla città capoluogo. Un anniversario oggi passato quasi sotto silenzio anche dalle massime istituzioni regionali. I litigi delle scorse settimane hanno tenuto a destra l'attenzione dei politici nella zona neuronale che riguarda le elezioni. Il dibattito si è acceso sui collegi e su quanti eventuali consiglieri dovessero o potessero atterrare e godere dei privilegi della carica, mentre se il tema si sposta sugli interessi più generali dei cittadini delle due province i neuroni dei politici sono quasi sempre in vacanza. La sanità offre un esempio scolastico. Al governo e a gran parte della maggioranza che guida la regione non è interessato granché il fatto che nelle due province gli ospedali siano stati mandati gambe all'aria per un interesse di bottega e forse personale. E quindi poco importa se per partorire Isernia bisogna andare a Chieti oppure se a Dagnone è più fortunato uno che si ammala d'estate rispetto al paziente invernale se al Cardarelli interi reparti sono stati azzerati così come a Larino, a Termoli e a Venafro. Quando invece bisogna occupare i posti di vertice in ambito sanitario o amministrativo la battaglia politica diventa guerra senza esclusione di colpi e i neuroni dei politici tornano a mettersi in moto. Stavolta però rispetto al passato la pazienza dei cittadini sembra essere colma e se in passato quelle battaglie di potere venivano in qualche modo tollerate in cambio dell'efficienza del servizio pubblico oggi che la sanità pubblica è allo sbando e il servizio è stato fatto proprio ai cittadini le prospettive non lasciano presagire nulla di buono. 54 anni di autonomia del Molise con Campobasso e Isernia che sembrano sempre più due città svuotate sono messi a rischio da una classe politica miope e confusa e che oggi per salvarsi aspira a tornare insieme all'Abruzzo. La segretaria regionale della UIL Tecla Boccardo è intervenuta sul bilancio di previsione 2018-2020 il documento di programmazione approvato dalla giunta regionale su cui c'è stato un confronto con il sindacato non rappresenta una svolta per lo sviluppo e la coesione del territorio ha detto mancano provvedimenti per diminuire il carico fiscale regionale mentre gli investimenti e lo sviluppo sono demandati essenzialmente alla spesa dei fondi strutturali europei e del Fondo Sviluppo e Coesione ci sono meno soldi per la sanità finanziamenti tagliati del 5,9% ha continuato Boccardo nonostante l'aumento a livello nazionale delle risorse per il diritto alla salute con il rischio di non assicurare ai molisani i livelli essenziali delle prestazioni dito verso anche per il disastro turismo così lo ha definito Boccardo un colpo di scure anche per le politiche giovanili tagliare delle disponibilità per lo sviluppo sostenibile la tutela ambientale ma anche per l'assetto del territorio ed edilizia abitativa risorse inadeguate per il settore sociale in sostanza una manovra che rischia di non cogliere i problemi del Molise e dei molisani ha concluso Boccardo la CGL interviene sulle tematiche del lavoro e non le manda a dire alla politica solo tante parole pochi fatti e il commento del segretario organizzativo regionale del sindacato Franco Spina sentiamo su programmazione, lavoro, pensioni e ammortizzatori sociali solo tante parole e pochi fatti un'analisi negativa quella che la CGL attraverso il segretario organizzativo Franco Spina fa pochi mesi dalle elezioni a pochi giorni dalla fine dell'anno politica e istituzioni non vengono risparmiate il Molise, dice il sindacalista, ha sprecato tante possibili ripartenze ha giocato male le risorse arrivate dall'Europa fa l'esempio delle partecipate per le quali, secondo lui la regione non ha attuato un rilancio quando era possibile su sanità e trasporti da tempo in difficoltà bisognava intraprendere azioni strutturali riorganizzare il sistema Molise tutelando i molisani non ci sono stati provvedimenti coerenti all'analisi del contesto se da un lato la dismissione delle partecipate e gli interventi sulla protezione civile e sulla sanità pubblica hanno portato a una contrazione dei costi netta per la regione è la riflessione di Spina dall'altra c'è stato un immediato innalzamento delle criticità per le famiglie interessate una politica di tagli che ha provocato una drammatica ricaduta sociale con chiusura di importanti aziende crollo del lavoro stabile compensato da precariato il sindacalista della CGL sottolinea poi l'ulteriore dramma degli ammortizzatori sociali ormai in fase di dismissione con molti molisani che si ritrovano senza reddito pur volendo comunque il lavoro servono misure per far sì che gli ex lavoratori rimangano agganciati allo strumento di crisi fino al rilancio produttivo concreto ma dice ancora Spina manca la fase del rilancio che non può esserci attraverso bonus e incentivi di breve durata si discute di area di crisi complessa ma nonostante la proroga per presentare i progetti non è ancora dato sapere quante imprese abbiano fatto istanza possono avviare attività e quanti lavoratori potenzialmente coinvolti discorso simile per l'area di crisi semplice a che punto è il patto per il Molise e si chiede ancora il sindacalista della CGL è evidente che il ritardo accumulato non aiuta la ripresa e che è in difficoltà serve accelerare e un cambio di passo su politiche attive e passive migliorando le prime predisponendo le seconde non può esserci sempre l'alibi delle scarse risorse nazionali Franco Spina fa poi l'esempio del trasporto locale per il quale la regione ancora non procede alla nuova gara e a un nuovo piano il 29 dicembre ci sarà la seduta monotematica del Consiglio regionale su lavoratori ex mobilità inderoga ATM GAM l'auspicio conclude che si prendano decisioni vincolanti e verificabili nel breve periodo 15 persone dovranno rispondere a vario titolo per fatti connessi al consumo al traffico di droga sono gli esiti dei servizi effettuati in queste ore dai finanzieri della compagnia di Campobasso nel capoluogo e lungo le principali arterie della provincia nel 2017 fanno sapere sono 238 le segnalazioni a vario titolo per violazioni in materia di stupefacenti 9 persone sono state arrestate in totale sequestrati oltre 22 chili di droga per il triennio 2014-2016 gli interventi condotti dalle fiamme gialle di Campobasso nel contrasto al consumo e spaccio di droga sono stati 622 le segnalazioni circa 850 22 gli arresti mentre sfiora le due tonnellate lo stupefacente sequestrato conferenza stampa al comune di Isernia per parlare di miglioramento degli arredi urbani illuminazione e viabilità annunciati anche fondi per le scuole in arrivo 10 milioni di euro sentiamo grazie a circa 100.000 euro di fondi non utilizzati ricavati tra le pieghe dell'assestamento di bilancio il comune di Isernia si appresta ad avviare una serie di interventi destinati a migliorare il decoro urbano l'illuminazione e la viabilità cittadina i progetti in cantiere sono stati illustrati dall'assessore comunale Domenico Chiacchiari gli interventi previsti per il decoro urbano interesseranno Corso Garibaldi dove saranno sistemate nuove panchine nuove fioriere si interverrà su piazza Celestino V in prossimità del monumento con la sistemazione del verde per quanto riguarda invece la viabilità si interverrà subito con la chiusura delle scuole su via Umbria dove è presente la scuola di San Leucio e via Veneziale per quanto riguarda invece l'illuminazione pubblica interverremo in prossimità del Paleolitico illuminando tutta la strada da Isernia al Paleolitico e sistemando anche la zona dell'hotel Europa con un nuovo impianto di illuminazione pubblica naturalmente partiremo anche con la sistemazione per quanto riguarda l'illuminazione dei Corso Garibaldi che deve essere illuminata tutta a led nonostante i problemi economici dell'ente ha detto il dirigente dell'area tecnica Giorgio Marone si sta facendo tutto il possibile per dare risposte convincenti ai cittadini oltre 10 milioni di euro in arrivo dal bando per le periferie urbane ci sono in ballo altri 10 milioni per le scuole il MIUR ha in fase di emissione un decreto ministeriale per il finanziamento delle scuole e per il Molise nel triennio 2018-2020 ha ricevuto circa 17 milioni di euro ebbene su questi fondi triennali del triennio 2018-2020 il comune di Isernia ha ben due scuole nei primi cinque posti il primo è la San Giovanni Bosco di Corso Garibaldi e poi la San Pietro Celestino giù nella zona vecchia che prevede la parziale demolizione e ricostruzione per cui per un totale di circa altri 10 milioni di euro per cui sono belle risorse e belli interventi certo che bisognerà lavorare sulle spese correnti per poter trovare e reperire dei fondi per le manutenzioni fallito furto con scasso nella notte alla struttura provvisoria dell'ufficio postale di Montorio nei Frentani il box prefabbricato è stato scassinato ma all'interno non c'erano soldi che vengono portati via dopo ogni chiusura il servizio delle poste è garantito così in paese da quando la scorsa primavera c'era stata una rapina in seguito alla quale erano stati disposti i lavori di adeguamento degli uffici con il nuovo anno dovrebbe riaprire la sede ristrutturata sul posto per i rilievi i carabinieri e intervento dei vigili del fuoco a Termoli in via dei pruni nella zona di difesa grande chiamati per l'incendio di una canna fumaria i vigili una volta sul posto hanno dovuto chiedere l'intervento di un autoscale e un autobotte in quanto le fiamme avevano interessato già buona parte della copertura di uno dei tre edifici a schiera a scopo precauzionale sono state fatte evacuare le abitazioni interessate ma anche altre limitrofe per consentire le operazioni di spegnimento oltre 20 ragazzi delle scuole superiori sono entrati a far parte dell'associazione volontari ospedalieri numerose le iniziative in programma nei prossimi mesi a Natale sono stati distribuiti anche dei doni realizzati per le persone ricoverate nell'ospedale Santimotio di Termoli Fabrizio Occhionero un impegno gratuito e volontario che rappresenta un autentico gesto di solidarietà oltre 20 ragazzi delle scuole superiori provenienti da Termoli San Martino in Pensilis e altri centri del Basso Molise hanno deciso di aderire all'associazione volontari ospedalieri un'esperienza gratificante che è coinvolto attivamente il gruppo pronto a condividere momenti di assistenza ascolto e collaborazione all'ospedale Santimotio di Termoli in particolare oltre ad essere vicini alle persone ricoverate per varie esigenze andranno anche a implementare un nuovo servizio di accoglienza e di punto informativo nell'atrio dell'ospedale della città adriatica le attività coordinate dalla presidente dell'associazione Celeste Vitale partiranno a gennaio al termine di un corso di formazione i neo volontari dell'Avo sono stati accolti dal direttore sanitario del Santimotio Filippo Vitale dalla vice Michelina Morelli per un primo incontro illustrativo e per fare il punto sull'organizzazione del presidio sanitario e tra le prime iniziative non sono mancati gli auguri di Natale ai pazienti nei vari reparti o la distribuzione di doni originali realizzati dagli stessi volontari un'esperienza carica di significato che vede protagonisti tanti giovani impegnati nel sociale pronti a dare l'esempio offrendo parte del loro tempo per portare un sorriso alle persone ricoverate spesso anche sole o con familiari che vivono fuori regione l'impegno continua e nei prossimi mesi saranno organizzate altre importanti iniziative per raccogliere anche nuove adesioni nel segno dello spirito più vero del volontariato stop ai botti la sera e la notte di San Silvestro a Campobassolo ha deciso il sindaco in un'ordinanza che proibisce l'uso di fuochi pirotecnici e lo scoppio dei petardi in qualsiasi luogo pubblico fatta eccezione per le scintille luminose i botti non potranno essere sparati nemmeno nelle aree private da cui possono essere raggiunti o interessati direttamente spazi pubblici per i trasgressori le multe sono salatissime lo stop ai petardi comincerà alle 7 della sera del 31 fino alle 9 del mattino del 1 gennaio si è svolta a San Polo Matese la rappresentazione del presepe vivente che quest'anno è giunta la 35esima edizione un percorso tra vicoli e angoli suggestivi del centro storico sentiamo Valeria Farina è uno dei presepi più antichi del Molise a San Polo Matese come ogni anno torna in scena il presepe vivente un evento che unisce la fede la storia e le tradizioni locali questo è il presepe più caratteristico e più fedele credo del Molise è un appuntamento straordinario che la nostra comunità ogni anno vive e rivive con la nascita di Gesù Bambino tutta la popolazione di San Polo e dei comuni limitrofi vengono qui ognuno al proprio posto come sempre e fanno di questo presepe uno spettacolo unico credo nel suo genere oltre 130 figuranti distribuiti in 25 scene per raccontare 35 anni di tradizione presepistica avviata da Don Angelo Spina allora parroco del paese oggi arcivescovo di Ancona questa rappresentazione che Don Angelo Spina oggi arcivescovo di Ancona ha tenuto tanto a iniziarla e io nella tradizione mincanale perché la tradizione pone l'identità della comunità e questo fa veramente onore a me come parro e come a tutta la diocese quindi viva il presepe di San Polo Matese il presepe vivente è organizzato dalla parrocchia dall'amministrazione comunale e dalla proloco del paese si racconta la natività di Gesù ma anche la storia del territorio qual è il messaggio che volete dare con questa iniziativa il messaggio della semplicità del ritorno al lavoro di ritorno a quello che è poi l'equilibrio che c'è sempre stato nei nostri territori tradizione fede per raccontare il presepe vivente di San Polo Matese undicesima edizione del presepe vivente di Larino che quest'anno è stato allestito con un nuovo percorso all'interno del borgo tanti visitatori arrivati da tutta la regione prossimi appuntamenti il 30 dicembre e il 6 gennaio Manuela Iorio una nuova location quasi 250 figuranti una trentina di scene torna in una veste rinnovata il presepe vivente di Larino arrivato alla sua undicesima edizione la locanda la cantina le massaie il falegname ma anche le sattorie la scuola i nobili il mulino c'è spazio per tutti per i mestieri di un tempo e per quella che era la quotidianità di 2000 anni fa all'interno della rappresentazione che si snoda tra le vie del borgo un appuntamento che si ripete grazie alla passione dell'associazione CAR che si occupa della preparazione e dell'allestimento tutti volontari che con un grande lavoro di squadra riescono a rendere unica l'atmosfera ci siamo organizzati molto bene perché passare nel tempo diciamo un'acquisizione sempre maggiore siete affinati eh sì comunque quest'anno mi sembra che sia l'anno più bello che c'è anche perché quest'anno è un percorso molto nuovo tutto in confronto all'anno scorso diciamo è un percorso nuovo qual è la novità di quest'anno la novità secondo me a parte le figure i figuranti e quello che cosa le postazioni però sono il centro storico che si addice forse come avete visto in giro è bello da scoprire il presepe quest'anno è stato realizzato in una zona diversa del borgo e grande successo ha riscosso la torre Palma all'interno della quale si trovano numerose scene un'antica torre di Larino dove una volta si faceva il mercato e che i proprietari hanno messo a disposizione un percorso suggestivo tra assaggi di vincotto e scarpelle appena uscite dall'olio bollente e che si conclude con la suggestiva natività grazie sei l'angioletto di Gesù è difficile questo ruolo? no quanti anni hai? cinque tu come ti chiami? Michela Michela quanti anni hai? nove tu sei grande allora è la prima volta che fai l'angioletto? la terza questa è la macina di una volta? sì questa è la macina di una volta con la pietra proprio girata a mano molto pesante quindi è anche faticoso per chi è che deve setacciare la farina perché bisogna ripassarla molte volte da che ora siete qui a preparare? allora noi siamo arrivati alle quattro avete preparato tutti gli impasti ora friggete? sì ci sono le signore dietro che frigono io consiglio la scarpella bella calda molto commovente molto è bello sì lei è di Larino? no è di un paese qui vicino di Casa Calenda c'è questo gioco di luci nelle case vecchie e poi i personaggi sono bravissimi gli è piaciuta anche la novità del cambio di posto molto bello bravo a chi ha lavorato prossimi appuntamenti con il presepe il 30 dicembre il 6 gennaio con l'arrivo dei remagi Baselice paese in provincia di Benevento a confine con il Molise si prepara per la settima edizione del presepe vivente sulla via di Betlemme una rappresentazione suggestiva per le vie del borgo medievale che andrà in scena domani dalle 15 alle 22 poi il 29 e il 30 dicembre dalle 17 alle 22 sentiamo le anticipazioni oltre 350 figuranti la più anziana a 93 anni il più piccolo a tre mesi interpreta Gesù diversi gli animali una cinquantina di scene un migliaio di strumenti attrezzature tradizionali c'è anche un corno che arriva direttamente da Israele sono i numeri di un presepe vivente suggestivo ed emozionante un presepe vivente itinerante il recitato quello in scena dalle 15 alle 22 di domani 28 dicembre a Basilice Borgo in provincia di Benevento a confine con il Molise rappresentazione della natività dal titolo sulla via di Betlemme che verrà ripetuta dalle 17 alle 22 anche venerdì 29 sabato 30 dicembre l'iniziativa è giunta alla settima edizione a idearla il dinamico parroco Don Michele Benizio che con l'associazione amici del presepe vivente di Basilice la allestisce organizza con la collaborazione del comune il bellissimo borgo medievale palcoscenico di una rappresentazione in cui sarà possibile scoprire e riscoprire i vari mestieri del presepe storico l'ambientazione curata nei dettagli costumi e situazioni e la palestina di 2000 anni fa quando nacque Gesù in cui però si innestano i mestieri e i luoghi che invece caratterizzano la realtà di Basilice la sua tradizione e storia urbanistica fabbri fornai mugnai in un mulino con antichi strumenti per battere il grano a mano solo per fare qualche esempio una cinquantina di scene in cantine case e palazzi del centro medievale c'è un mercato all'aperto il palazzo di Erode con la corte l'accampamento dei magi i quali poi si muoveranno per raggiungere il salvatore la capanna della natività dove a gruppi arriveranno i pastori e ci sarà Maria in groppa alla sinella natalina e con lei San Giuseppe le scene recitate in cui chiedono ospitalità ad accompagnare i visitatori una guida per oltre un chilometro e mezzo tra gli archi delle porte medievali fino alla torre del capitano tra le storiche ed evocative cantine scavate nel tufo di impatto visivo il cammino dei magi insieme ai figuranti per un chilometro fino alla capanna si sospenderà l'illuminazione pubblica e le uniche luci a rischiarare la via saranno quelle delle fiaccole nei vicoli medievali si tratta di una rappresentazione sacra spiegato Don Michele Benizio fatta e da fare con serietà e fede in cui il paese si unisce supera le divisioni laddove esistono perché Gesù nasce per unire ma è per dividere per la pace e l'amore una rappresentazione di fede dunque ma anche un modo per valorizzare Basilice Pienone all'auditorium di Isernia per il tradizionale appuntamento con il concerto di Santo Stefano sotto la direzione del maestro Fernando Raucci protagonisti l'orchestra sinfonica di Pablo Darra il mandolinista Tiziano Palladino e il direttore d'orchestra Nicola Graziano che ha presentato una selezione di musiche da film del celebre compositore Ennio Morricone sentiamo Pioggia di applausi e pienoni in sala all'auditorium di Isernia per il concerto di Santo Stefano organizzato dal direttore d'orchestra esernino Fernando Raucci che ancora una volta ha portato nel capoluogo pentro musicisti di fama internazionale come quelli dell'orchestra Kazaga di Pablo Darra che si sono esibiti in musiche di Brahms Mozart Vivaldi e Gvorak è una grossa soddisfazione questo è il quinto anno che abbiamo buttato giù questa tradizione concerto di Danale oppure concerto di Capodanno quest'anno purtroppo per organizzazioni non era disponibile l'orchestra a Capodanno per cui abbiamo fatto il concerto di Santo Stefano ma in passato l'abbiamo sempre fatto e quindi sono felice insomma il programma sono le danze di Bojack le danze ungheresi di Brahms la Moldava di Smetana e poi come diciamo come fiore all'occhiello ho inserito un maestro palladino che è un musicista di Ferrazzano che si esibirà al mandolino con l'orchestra presente in sala anche il sindaco Giacomo D'Apollonio che ancora una volta ha sottolineato il valore della musica e della cultura nel cartellone dell'auditorium di Isernia struttura che continua a qualificarsi sia per gli eventi che per la qualità dei protagonisti noi abbiamo voluto patrocinare questa bella serata di musica che è il linguaggio universale con la quale vogliamo dare gli auguri più affettuosi alla nostra città e ai nostri concittadini anche per il futuro soprattutto per il futuro e poi musica e arte ci sono degli ottimi musicisti abbiamo il nostro Fernando Raucci che ci delizia sempre con queste iniziative noi non perdiamo occasione per sostenerlo insomma anche perché abbiamo una struttura che ben si presta a queste serate musicali e veramente può dare molto insomma questa nostra struttura alla musica e all'arte in generale musica e all'arte in generale al fianco di Raucci e con l'orchestra di Pavlo Dar il mandolinista molisano Tiziano Palladino che ha riscosso applausi a scena aperta per aver interpretato una delle sonate più famose del mandolinista isernino Giuseppe Pettine passato alla storia come il massimo compositore e cultore studioso del mandolino ho pensato anche di suonare un brano di mandolino solo che è intitolato Fantasia romantica opera 45 l'autore Giuseppe Pettine è un personaggio noto a questa città che ha dato lustro a questa città emigrando in America alla fine dell'Ottocento e creando una scuola a Providence nel Rhode Island di mandolinisti un'orchestra di mandolini che tuttora esiste e lui Giuseppe Pettine oltre ad essere compositore e mandolinista appunto ci ha lasciato tantissimo repertorio quindi farò questo omaggio E infine applausi anche per il maestro Nicola Graziano che ha proposto una selezione dei brani più famosi delle colonne sonore di Ennio Morricone Questa sera presento una suite di Morricone quindi tre temi tratti da tre pellicole importanti che lui ha realizzato nel corso della sua vita Nuovo Cinema Paradiso il tema di Lolita e il tema della leggenda del pianista sull'oceano In chiusura l'appello per un cane un lagotto bianco di nove mesi molto docile che si è smarrito a Campobasso in via Belpulsi si chiama Filippo ha un collare marrone e ha il microchip chiunque ne abbia notizie o l'abbia trovato può contattare come sempre la nostra redazione è tutto grazie per averci seguito e arrivederci Grazie a tutti